Sono stati tacciati di antimeridionalismo nel migliore dei casi. I senatori di centrodestra eletti nelle regioni del sud non ci stanno e replicano a chi li accusa di aver spaccato l'Italia e accettato la secessione approvando il disegno di legge Calderoli. Il principio che sta alla base dell'autonomia differenziata è un principio di solidarietà, non è un principio di divisione, non è un principio di spereguazione, ma è quello di consentire a tutte le regioni di avere dei livelli assistenziali di qualità e che rappresentano il valore dell'unità nazionale e che possono mantenere in piedi l'impalcatura complessiva del sistema attuale sulla base di un semplice decentramento perché Forza Italia vigilerà con tutti i propri mezzi per far sì che ciò rappresenti un'occasione e un motivo di crescita e non un motivo di divisione. La sigla chiave utilizzata da chi difende l'autonomia è l'EP che sta per livelli essenziali di prestazione, un provvedimento che fa da appendice alla legge Calderoli e che deve essere ancora tarato che si allinea al dettato costituzionale sul principio di uguaglianza. Tra i relatori anche Costanzo della Porta che proprio sui LEP argomenta e garantisce che le regioni del sud non patiranno nessuna diseguaglianza. Fin dall'inizio, ha spiegato il senatore di San Giacomo degli Schiavoni, è stata chiara la volontà di emendare in modo significativo la legge Calderoli su tre pilastri, unità e coesione nazionale, ruolo del Parlamento e assistenza per le regioni svantaggiate.